Heracles ha ideato e progettato una serie di spoon innovativi ed efficaci, specifici per il Trout Area, tutti dotati di ami senza ardiglione. Kite 1,2 grammi, affonda lentamente per restare più a lungo nella Strike Zone, colorazioni studiate per catturare anche le trote più smalizziate. Nail 2 grammi, ha un movimento accentuato in recupero e in caduta, compatto, ideale per lanci lunghi. L'osco 2,5 e 1,6 grammi, si lancia lontano. Grazie alla sua forma a punta di lancia, ha un movimento irresistibile ed un'efficacia infallibile. Yankee 3 grammi, lasso nella manica per le situazioni di totale apatia. Il suo movimento irregolare scatena attacchi laddove i pesci rifiutano gli altri onduranti. Rook 2 grammi, consente lanci lunghi. La forma ad aquilone gli conferisce un'azione di nuoto particolare e catturante. Dribbow 2,5 grammi, ha un movimento ondeggiante e un corpo allungato, imitando alla perfezione il foraggio, e quindi perfetto per la ricerca dello Strike. Keeper 2,5 grammi, compatto e pesante, risulta eccezionale in fase di lancio e azione di nuoto. Heracles Trout Area Spoon, divertimento senza fini.